ciao a tutti e benvenuti in un altro fantastico video oggi siamo sul gratt e vinci banana e colors qui ci sono le regole di come si vince come si perde comunque sono diciamo un giochino tipo the wall più o meno all'incirca solo che qui funziona che la pallina praticamente va sui colori e se la pallina va sullo stesso colore per tre volte vinciamo la banana di quel colore poi c'è il bonus che se va sul roll dopo c'è un altro giochino dove ci sono le scimette che vedremo magari se capita e poi vincere il premio direttamente ad esempio ho vinto un euro che la giocata ovviamente questa è una demo perché non mi va di spendere soldi per questi giochi ma semplicemente analizzo il gioco analizziamo insieme e vi mostro quanta possibilità avete di vincere quanta di perdere eccetera eccetera ovviamente ripeto sempre in ogni video che io sono contro il gioco d'azardo e proprio per questo voglio aiutarvi a mostrarvi quanto si può vincere quanto quante volte si perde effettivamente cioè adesso qua sto per vincere 10.000 euro cercando quando mai li vinci cioè non li vincete ragazzi sono solo spirali di luce incredibili ad esempio ecco qui ho preso lo slot magico mi manda sul tetto ovviamente qua devo svegliare una scimmietta premendo sul piatto e posso vincere col premio ho premuto ho vinto un euro cioè la giocata minima potevo vincere nel 500 potevo vincere nel 5 ma tutte le volte che andrete premere vincerete sempre la cifra in un passo ragazzi è sempre così sempre fisso fisso ragazzi sono delle truffe sti giochi sono delle truffe vogliono farvi giocare tanto e spendere tanti soldi per non vincere una segale niente di niente ragazzi veramente niente di niente questo gioco qui è anche divertente come demo cioè veramente se giocate come demo vi divertite anche perché è un gioco passatempo state lì qui avrei vinto 2 euro ma con tutte le giocate che ho fatto cioè ci pagavo al malapena le giocate che ho fatto dai cioè ragazzi quindi vi consiglio che se vi piacciono sti giochini giocate nelle demo e basta non li giocate veramente anche perché le demo sono veramente utili cioè ragazzi cioè anche quando andate a giocare sti giochi cioè visto che nella realtà quando vai a prendere un grattevinci no non è che c'è la demo lo puoi provare vedere se quante possibilità di te leggi dietro a non so potete vincere uno su un milione uno su diecimila contiene una vincita dai uno ai dieci euro per dire uno su centomila uno su diecimila uno su un milione contiene queste vincite qua non c'è perché è random cioè comunque potete provare la demo e se provate la demo vedete cosa potete vincere solitamente in tanti giocate vi fate anche 20 30 giocate vi fate un resoconto più o meno di quanto potete vincere qui dal mio video se lo guardate tutto quanto vedete chiaramente quanto io vinco e quanto io perdo perché la giocata minimo qua ragazzi sempre un euro e cosa vincete cioè un euro due un euro due un euro due guarda un euro mi sono giocato cioè alla fine si vi passate il tempo ma al massimo che vincete o è il doppio di quello che avete giocato o è un euro niente di più niente di più cioè e voi direte ah ma perché te non sei bravo non fai clicchi nel momento giusto della scimiettante la pallina ragazzi va dove cavolo gli para lui non vi fa vincere quello che volete voi va dove cavolo gli para lui cioè è una casualità volendo le potete anche far lanciare tutte quante contemporaneamente sceglie lui dove farla atterrare dove non farla atterrare tutto fatto apposta tutto fatto apposta ragazzi non vincete mai vince sempre vincono sempre loro sempre solo loro veramente già guardate cioè io sto giocando no vediamo potrei vincere 500 euro potrei vincere poi poi se li vinco in una demo dico dio bono ho giocato nella demo non ho giocato nella realtà no cioè dovrei pensare questo guarda niente niente potevo vincere 500 non ho vinto niente giochiamo di nuovo addirittura stamano potrei vincere 10.000 di nuovo 100 euro e 500 ovviamente sono cambiate sempre le impostazioni guardate bene una pallina per ogni banana diverso ovviamente un euro siamo vicini a un euro roll special roll del coso possiamo cliccare su qualunque scimietta che abbiamo visto prima che era sicuro vincete sempre la cifra minima sempre un euro e ci sono sempre 5 euro e 500 ma non vincete mai l'altra cifra mai 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 adesso magari nella demo è stata limitata a un euro 50 500 però secondo me anche nella realtà è così ho vinto 2 euro un euro del bonus e un euro della vincita quando mai quando mai potete vincere mai cioè non vincete sempre la cifra più bassa cioè magari commentate se avete provato sto gioco nella realtà e mi dite oh io ho giocato 10 partite e ho vinto 50 euro allora se mi dite così beati voi dico bravi però comunque hai vinto 50 euro hai giocato 10 partite hai vinto solo quei 50 euro hai vinto alla fine 40 euro ecco qui incredibilmente ho vinto 5 euro ma sono andato a malapena in pari di tutte le partite che ho giocato che non ho vinto una minchia cioè rispetto sempre a alcuni giochi vinciti più però ragazzi questi giochi al massimo vincete quello che andate in pari cioè non vincete solamente quello che andate in pari con quello che avete speso ragazzi veramente non giocate se volete giocare giocate le demo che sono gratuite vi divertite vi passate un po' il tempo ma sono solo demo gratuite che non vi permetteranno di vincere però vi potete divertire e passare il tempo se vi è piaciuto il video lasciate un like commentate che voglio leggere i vostri commenti e iscrivetevi al mio canale perché porterò sempre più video di questo genere di unboxing e anche magari di altre cose se ho tempo se riesco a caricare perché inter mi va un po' così così vi ringrazio un saluto a tutti buona giornata buona serata o buona mattinata arrivederci ciao grazie